Ho forse trovato il deodorante definitivo? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di un deodorante che ho trovato, che forse è il deodorante definitivo. Non è un video sponsorizzato, ma semplicemente nel mio canale parlo soprattutto di cura personale, di crescita personale, vi faccio vedere la mia carriera, come cresco, ma anche nelle piccole cose come i profumi o comunque la cura di sé siano importanti e ho sempre cercato il prodotto migliore per ogni categoria nel momento in cui vado a interessarmi di quella categoria. C'è stato il periodo in cui facevo video sul miglior cuscino perché cercavo il miglior cuscino, poi sulle federe, poi ho trovato gli shampoo, quindi base ai capelli, poi per varie cose, la skin care e tutto. In questo momento c'era un periodo in cui un mio caro amico di università mi ha detto di quanto facciano male i deodoranti ed è una cosa a cui io non ho mai fatto caso. Il deodorante è una di quelle cose che ho sempre comprato a caso e ho detto ma scusa, io sto attento a tutti i prodotti che utilizzo per me stesso, il deodorante non ci ho mai fatto caso. Perché no? Allora ho detto ma sai cosa mi faccio una ricerca e in effetti ho notato che il mondo dei deodoranti è un mondo a sé, è proprio un mondo gigantesco e ho notato che in effetti la maggior parte dei deodoranti non sono il massimo per la pelle. Possono anche portare a danni o comunque alcuni dicono che siano cancerogeni, alcuni possono impedire alla pelle di sudare e quindi possono dare danni in futuro. Quindi in realtà c'è un mondo dietro e facendo varie ricerche, cercando qualcosa di naturale che facesse bene, qualcosa che sia comunque efficace ma allo stesso tempo che non faccia del male alla pelle perché cercavo qualcosa di definitivo, ho trovato vari video e varie cose online che parlano del deodorante che utilizzavano gli antichi romani e mi è venuto fuori questo. Allora ho detto lo provo e vediamo come va. L'ho provato e in effetti va. Allora il deodorante in questione, in realtà il brand non conta, è l'allume di rocca o l'allume di potassio. Qua mi dice allume di rocca, allume crudo o allume di potassio sono tre termini elementari, semplificano una più complessa espressione scientifica, solfato doppio di alluminio e potassio dodecaidrato. Tra l'altro ragazzi non so se vi piace ma ho fatto la camera bianca, ve la farò vedere in un prossimo video. Da diversi anni a questa parte, l'uomo di rocca ha preso piede nelle rebosterie, rimedio naturale per il sudore, fin dall'antichità. I romani erano soliti a commerciarlo, ne conoscevano già le caratteristiche. Ha numerose proprietà, tra cui deodoranti, proprietà astringenti, cicatrizzanti, emostatiche, lenitive e antibatteriche. Tant'è che tanta gente ho scoperto viene utilizzato nella community di chi si fa la barba, quindi nel momento in cui ti fai la barba può essere utilizzato come prodotto lenitivo. Tutto è oggigiorno sfruttato assolutamente dall'industria profumiera, cosmetica, chimica, naturale, proprietà deodoranti ed antibatteriche. In caso di sudorazione abbondante, l'allume di rocca riduce l'odore esalato dal corpo, esercitando un effetto antitraspirante. Determina il blocco temporaneo delle ghiandole sudoripare. L'elevato potere osmotico, inoltre, induce la morte delle cellule batteriche. Aiuta anche per il prurito, i pizzicotti di zanzara, utilizzato anche per le cerette. Non va mangiato, però viene utilizzato in alcuni sali da cucina. Scur, scusate, scherzavo, non va mangiato, ma viene utilizzato per i cattivi odori anche nel frigorifero. Trossanguinamento nasale, perché ha proprietà stringenti, ha proprietà anche spermicide e altre innumorevoli proprietà. Qui ho detto, cavoli, beh, devo provarlo. Qua dice anche indicato per persone con pelle sensibile, con allergie, profumerie, a profumazioni sintetiche. È economico, di lunga durata, non lascia aloni sui vestiti. Può essere impiegato sia come sostitutivo del deodorante che come emostatico in caso di taglietti. Contiene alcun tipo di sostanze sintetiche. Può essere considerato un deodorante naturale. Quindi io ho fatto qualche ricerca e ho detto, beh, lo compro. Allora, in realtà c'è gente che dice che possa far male, gente che dice, ok, però l'antitraspirante non è il massimo perché a lungo andare può impedire alla pelle di sudare nel modo corretto e quindi in realtà può portare a danni. Altri dicono che essendo comunque potassio e alluminio, l'alluminio in realtà non faccia bene e quindi possa anche portare ad azioni cancerogene. In realtà ho visto che, uno, non ci sono prove scientifiche che dicono questo. Quindi è un po' una battaglia tra chi dice che fa bene, altri dicono che non è il massimo. Due, in realtà la maggior parte delle persone dicono no, questo tipo di alluminio, questo tipo di potassio non sono quelle che fanno male, non sono quello che si vede all'interno delle confezioni di alcuni prodotti che c'è scritto Alluminum Free, che fa male e non viene traspirato perché è troppo grande per essere assorbito dalla pelle e dicono che comunque la funzione antitraspirante è momentanea, quindi è una cosa temporanea e quindi se non viene utilizzato 24 ore su 24 per tutta la vita non ti fa del male. Se lo utilizzi una volta al giorno, la mattina, quando ti sciacqui, la mattina o dopo la doccia non fa assolutamente male, anzi è molto meglio del 99% di ritoranti che ci sono in giro, che sono pieni di cose. Allora io sono andato su Amazon e ho trovato, tra i vari, ho trovato questo perché la maggior parte erano cinesi quindi comunque contenenti plastiche, eccetera, nelle confezioni. Ho trovato questo che invece è di Bjork, ve lo linko in descrizione, aveva buone recensioni, in più è tutto di sughero quindi 100% ecologico, più degradabile. Ho detto devo provarlo. Questo è... come è fatto? Praticamente un sale è un cristallo. Guardando le recensioni dicono che può durare tantissimo se utilizzato correttamente va a durare anche dai 3 ai 5 anni. Costa un po', però se dura dai 3 ai 5 anni in più non lascia loni, è in odore ovviamente, quindi ho detto beh sai cosa, devo provarlo. Questo qua è direttamente fatto in Svizzera, tutto fatto in Svizzera, il packaging fatto in Svizzera, tutto ecologico quindi ho detto lo provo, ma mai che vado buttato via quei 10 euro, 15 euro. In realtà lo sto provando da due settimane e mi trovo molto bene. Semplicemente io con il durante Reolone non avevo mai avuto un buon rapporto e invece questo semplicemente lo metti sotto l'acqua 3 secondi, lo metti dove devi metterlo. Il bello è che ho notato che lo puoi mettere anche in altre parti del corpo, c'è gente che lo usa per i piedi c'è gente che lo usa anche qui dietro sul collo dove sudano molto. Io lo metto anche sulla fronte perché ho spesso la fronte lucida, adesso che non sto utilizzando più skin care come test. In realtà è abbastanza utile anche per piccoli brufoli, cose, lo metti così semplicemente poi lo risciacqui e lo lasci asciugare 2-3 minuti, 5 minuti e poi lo richiudi. Va asciugato, quindi questa è l'unica pecca ma dopo che ci si abitua è una cosa a cui non si fa più caso. Quindi ecco qua ragazzi, in realtà sono molto contento, io lo consiglio a tutte le persone che incontro se poi in futuro troverò un deodorante migliore o qualcosa che vada a sostituire perché in realtà c'è gente che utilizza al posto dell'odorante il bicarbonato però in realtà anche lì ho visto che non è il massimo neanche il bicarbonato quindi in realtà forse non esiste qualcosa che sia al 100% che non faccia male anche perché voglio dire, cos'è che c'è? Il sudore è naturale, giusto? Il problema è che a livello sociale puzza. Quindi non troverai mai qualcosa che ti faccia bene impedendo una funzione naturale del corpo, il mio ragionamento è. Quindi ovvio che anche il deodorante più naturale, più giusto, che comunque vada a togliere l'odore comunque stai andando contro la normale funzione del corpo. Quindi se il minimo di danno, chiamiamolo così, che posso fare è questo a livello naturale probabilmente non c'è di meglio o almeno io non ho trovato di meglio. Fatemi sapere nei commenti se c'è qualcosa di meglio perché non ho trovato qualcosa che sia al 100% esente da minacce o cose. Quindi in realtà questo sembra quello che al momento sia quello più sano e più efficace che conosco. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, in ogni caso ve lo lascio in descrizione. Lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale e ci rivediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!